Buongiorno e benvenuti, questa è la segna stampa un po' tardiva anche oggi. Vediamo quali sono le cose che mi hanno colpito di più sui giornali. Una cosa incredibile e la cosa che forse mi ha colpito più di tutto, ovviamente, e che avrà colpito più di tutti anche voi, sono lo EONG. L'abbiamo detto centinaia di volte e quello che è successo oggi è al di sopra dei sospetti. Come sempre la realtà supera l'immaginazione e supera anche le nostre attività giornalistiche. Quando noi dicevamo che le ONG andavano a fare i taxi, quando con Donadella denunciavamo il fatto che spegnessero i transponder, che andassero a prendere le persone in Libia, quando raccontavamo il fatto che accendevano un faro e poi con quel faro andavano a raccontare agli schiavisti che sarebbero stati salvati, gli schiavisti più che i loro uomini, che le loro merci da quelle navi ONG, insomma pensavamo di fare cronaca, ma non pensavamo che cos'altro sarebbe potuto avvenire. Bene, col tempo ci siamo accorti che quello che noi dicevamo e che veniva criticato da tutti quanti i benpensanti, dal giornalismo unico, dall'Europa, dai cattolici, dagli alti, dai bassi, dai progressisti, dalle boldrini varie, insomma si è verificato. Abbiamo scoperto che anche la sinistra ha chiesto un codice di autorregolamentazione delle ONG e oggi sui giornali, su tutti i giornali scopriamo che la procura di Trapani va a sequestrare una nave tedesca, Juventa, che nella prua di questa nave aveva scritto «Fuck Roma», cioè questa è fatta da dei ragazzi, secondo me, non global, ma poi ve lo sottoscrivo, me li vedo già stino global, che ci vengono a spiegare come si deve fare l'immigrazione in Europa e ci portano a noi i loro migranti. Nelle intercettazioni telefoniche citate dai giornali oggi, questi ragazzi dicevano, ragazzi, questi delinquenti, questi conniventi all'immigrazione, ai trafficanti di uomini, vediamo se verranno condannati, ma già il senso di trovarsi in una barca in cui c'è scritto «Fuck Roma» è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Certo che Di Maio aveva ragione, l'abbiamo detto molto prima di Di Maio, se permette il nostro amico del Movimento 5 Stelle, l'abbiamo detto noi che non siamo politici, ma che facciamo il nostro mestiere giornalisti. Ma su questa nave in cui c'è scritto «Fuck Roma» c'era scritto, nelle intercettazioni di questi qua, c'era praticamente il contatto diretto con gli schiavisti e il loro rapporto di connivenza, questa bomba umana contro l'Italia, in sostanza, che era il paese dove approdavano queste persone. Queste ONG, tra l'altro, 7 su 10, tra cui i fenomeni di medicina senza frontiere, non hanno fermato un codice di autoregolamentazione che tra le altre cose chiede che ci sia un poliziotto o una persona di polizia giudiziaria a bordo, che non mi sembra una cosa incredibile in un paese civile, non mi sembra una cosa incredibile se si ha a che fare con dei reati commessi in mare, come la traffico dei uomini, che non mi sembra che sia uno dei traffici, non so, come spacciare un cannino. Sarà un po' diverso portare degli uomini e fargli rischiare la morte e non militarizzare appunto come si dovrebbe quell'area. Vabbè. L'altra cosa che mi diverte è che su questa polemica, oggi l'avvenire, il giornale incredibile, incredibile dei Vescovi italiani, titola, senza rendersi conto di con scarso sprezzo del ridicolo, reato umanitario, cioè il fatto di aver sequestrato una nave ONG con scritto avanti di Fac Roma con delle prove secondo le intercettazioni che devono essere verificate e bagliate da un tribunale, questo è fuori di dubbio, ci vuole una sentenza, ci vogliono, ma ovviamente, voglio dire, sono tutte cose che si devono dimostrare, ma il reato umanitario non è il reato sul quale queste persone sono indagate, il reato è il traffico di uomini, di schiavi, va bene? E poi c'è un altro piccolo problema che bisognerebbe spiegare agli amici di avvenire, perché un'altra cosa che mi ha veramente colpito è che c'è il tema della Caritas, cioè come si pone la Caritas su questa cosa, non siamo ufficiali giudiziari, loro contro le nuove norme del governo e dell'accoglienza se la prendono perché dicono che rischiano di essere considerati gli ufficiali giudiziari, però sono loro che decidono la nostra politica dell'immigrazione, quindi loro non sono ufficiali giudiziari, cioè non si prendono gli oneri di essere ufficiali giudiziari, ma si prendono l'onere di decidere per tutti la politica di immigrazione in Italia, cioè accogliamoli tutti quanti. E no cari, non è che si fa così, non mi sembra che sia una roba di questo tipo. Aftar, in generale che si è visto recentemente invece con il nostro amico Macron, l'altro mito dell'Europa progressista, Aftar ha detto, secondo alcuni giornali lo amplificano, altrimenti un giornale lo titola, che bombarderà le navi italiane che si presentano al blocco libico. Non so se credere più ad Aftar all'esercizio da parte dell'Italia della Gold Share sulla team, che è il terzo grande tema della giornata, cioè quello che il ministro Calenda dice non essere assolutamente una ripercussione su Ficcantieri, ma è un bel segnaletto che si dà ai francesi, guardate che se scherzate con le cose nostre in Francia, noi scherziamo con le vostre in Italia. Vi dico subito come la penso su questa cosa, posto che io penso che Calenda sia un grandissimo ministro e che sia un'ottima persona al posto giusto, il rincorrersi di operazioni protezionistiche sulle aziende private è un rischio enorme. Lo so che siamo incazzati con i francesi, lo so che mi stanno antipatici i francesi, lo so che Macron, figuratevi, siamo stati noi i primi a parlarne in termini non elogiativi, ma l'idea di riuscire a pensare che si possono fare le ritorsioni commerciali, due giorni dopo la loro ritorsione commerciale è una cosa che mi sembra piuttosto ridicola, comunque sia, già emerge, mi sembra, su un messaggero di oggi, che la linea di condotta dei francesi è quella di dire che Telecom è una società europea e che non si possono quindi applicare Gold Share alle società europee. Mi viene da dire anche sull'isposta francese, però si possono nazionalizzare le aziende cantieristiche sudcoreane fallite con partecipazione in Francia, così è Saint-Nazaire. Non so come spiegare, io sono d'accordo con Calenda, sono d'accordo sul fatto che si debba fare qualche cosa, trovo che sia leggermente prematuro e forse queste cose più che dichiararle si fanno, se no si innescano delle guerre commerciali protezionistiche che fanno più danni in Italia che al resto del mondo. Mentre non ho affatto stima del Presidente Giorgio Napoletano, l'ex Presidente Giorgio Napoletano, il peggior Presidente della Repubblica che io mi ricordo negli ultimi anni, che oggi in intervista a Repubblica si inventa la panzana così di quella del mondo, e cioè che è stato Berlusconi a volere la guerra, sostanzialmente basta, dice, con queste fandonie che sono io che ho voluto partecipare alla guerra contro Gheddafi, è stato Berlusconi a farlo. Sbagliato, sbagliato anche per conoscenza diretta di quel periodo, per protagonisti di quella storia, tutto quello che oggi scrive e che dice l'ex Presidente Cossiga e l'ex Presidente Napoletano Repubblica è quella sì una vera panzana. Se c'era una persona che non voleva la guerra contro Gheddafi e che l'ha fatto capire prima e l'ha fatto capire dopo e ha detto addirittura e ha rischiato a livello internazionale come sempre di essere isolato era proprio Berlusconi che diceva il mio amico Gheddafi. Vi ricordate le polemiche fatte con Berlusconi che gli piaceva l'anello? Vi ricordate le polemiche quando lo accolse Roma nella villa? Ve lo ricordate in Villa Panfili? Vi ricordate le polemiche prima della guerra quando lui in tutti i modi cercava di dire che non si doveva bombardare la Libia? Ecco, adesso ci troviamo Napolitano che si inventa che è stato Berlusconi. Devo dire che questo dà il senso di quello che è stata la presidenza orribile politica fuori dalle regole costituzionali di Napolitano. Veneziani, stupendo oggi sul tempo, ve lo segnalo, che dice ma perché ve la prendete con quel bed and breakfast che non vuole coppie gay? Ovviamente secondo me è ridicolo, a me non frega niente se avessi un bed and breakfast e ci fosse una coppia gay, etero, cambia nulla, sono un'altra logica. Ma dice Veneziani, e non ve la prendete contro quegli alberghi che non vogliono i bambini? È molto divertente la sua provocazione, i veneziani. Perché siamo così preoccupati dagli alberghi che discriminano sessualmente e non quelli che discriminano dal punto di vista generazionale? Uno potrebbe dire perché i bambini danno fastidio, ma siamo sicuri che i bambini danno fastidio? Allora è pericolosa questa discesa. Bisognerebbe semplicemente, dice Veneziani, ragionare con la testa e non con le ideologie, anche quelle gender, gender o come si dice. Ultima cosa stupenda che ho letto oggi sul blog di Riccardo Ruggeri che voi sapete seguo, con attenzione, è la polemica tra Zuckerberg, l'uomo di Facebook, e Musk, l'uomo Musk, come si chiama, l'uomo della Tesla. Un altro flop, dice Ruggeri, che ce ne accorgeremo, perché per fare le auto elettriche bisogna consumare energia e l'energia bisogna produrla e per produrre l'energia ci vogliono centrali, le centrali sono ancora fossili. Insomma tutta la teoria che io condivido al 100%. Ma la cosa stupenda è la battuta finale, perché stanno litigando Tusk e Zuckerberg su una cosa che è fondamentale, molto più di team, molto più dei cantieri, molto più purtroppo degli alberghi che accolgono almeno i gay e i bambini in Italia. E cioè cosa diventerà l'intelligenza artificiale? Se sarà la fila dell'umanità, come dice Musk, o se potrà essere un miglioramento dell'umanità, come dice Zuckerberg. Ricordatevi che l'intelligenza artificiale è una cosa che già esiste. Quando voi col vostro cellulare spingete il bottone e chiedete di fare qualche cosa al vostro cellulare, dite che tempo fa domani? Quella è una forma molto banale di intelligenza artificiale. In prospettiva l'intelligenza artificiale è quella che farà sì che io parlo italiano e venga tradotto in tutte quante le lingue quello che faccio, che prevederà i miei gusti, prevederà le mie esigenze, saprà rispondere alle mie domande, cioè una rete che risponde alle mie esigenze prima che ancora che quasi gliele possa chiedere. Diciamo, semplifico e non vi arrabbiate. Sì, Alessandro, una sorta di Siri evoluto, che tra l'altro impara dalle domande che gli ho fatto. Beh, dice Zuckerberg, ovviamente, prodomo sua che questo non sarà la fine del mondo, mentre Musk dice che sarà la fine del mondo. Il tema è affascinantissimo, ma come lo pongono loro, dice Ruggeri, è incredibilmente presuntuoso. E la battuta di Ruggeri, secondo me, è fenomenale per le felpe della California, attente a... sicuramente on the edge of technology, sicuramente avvantissimo sulla tecnologia e che però si sentono dei padri eterni. E dice, tranquilli, Dio c'è, ma non siete voi, rilassatevi. Questa è la battuta finale e fenomenale di Riccardo Reggiori, con la quale vi saluto e vi do appuntamento domani. Ciao.